Buon poveriggio 13. Buon poveriggio 13.50, venerdì 20 aprile, ben ritrovati con Infostudio. Ad un anno e quattro mesi di distanza dalla clamorosa, spettacolare rapina al cavo della Sicur Transport di Catanzaro, di San Floro, la zona industriale di San Floro, ma l'agenzia è quella appunto di Catanzaro, la squadra mobile di Catanzaro e quella di Foggia ed il servizio centrale operativo sono risaliti alla banda, ai componenti di quello che fu uno dei colpi certamente più eclatanti, per le modalità più ancora che per il bottino, con cui vennero compiuto che siano mai stati portati a termine nella nostra regione. Era un gruppo di foggiani, di cerignolani, per la precisione, specializzati in questo tipo di assalti ai portavalori, in modo particolare ad aver agito, ma la commissione, l'organizzazione e la pianificazione del colpo erano partiti dalla Calabria con la compiacenza dell'endrine, del crotonese e del catanzarese, cui è finita una parte dei proventi. Poi, altro discorso è che questa rapina non sia del tutto andata a buon termine, c'erano 48 milioni di euro a disposizione, solo 8 di essi furono portati via. Come si è arrivati? Forse ci si sarebbe arrivati comunque perché alcuni passi in avanti abbastanza nascostamente erano stati fatti e probabilmente, ripeto, è solo che si è data un'accelerazione decisiva, ma il fatto che il rapporto tra un uomo ed una donna si sia deteriorato, e questo perché l'uomo accusava la donna di aver dirubato parte del bottino, ha poi determinato la svolta alle indagini, perché la donna, temendo di essere uccisa, si è recata dalla polizia, ha iniziato a collaborare, a raccontare quello che sapeva e lì gli investigatori sono riusciti a chiudere il cerchio. Ricostruiamo, partendo naturalmente anche dal racconto di quello che avvenne nella notte del referendum, era tra il 4 e il 5 dicembre 2016, ciò che è stato scoperto e come si è giunti alla svolta di oggi. C'era un'alleanza tra l'Andrangheta ed una banda di rapinatori pugliesi specializzata negli assalti ai portavalori, dietro la clamorosa rapina al cavò dell'Istituto di Vigilanza Sicur Transport di Catanzaro, avvenuta la notte tra il 4 e il 5 dicembre 2016, che aveva fruttato circa 8 milioni di euro. Sono state le rivelazioni di una donna, ex compagna di uno degli arrestati, a consentire alla squadra mobile di Catanzaro di chiudere il cerchio sui responsabili nell'ambito di un'operazione denominata Keleos, che ha portato all'arresto di 11 persone, alle quali viene contestata anche l'aggravante della metodologia mafiosa, poiché una parte dei proventi della rapina è finita all'endrine più influenti del crotonese e del catanzarese. Dalle indagini coordinate dalla procura antimafia di Catanzaro e condotte dalle squadre mobili di Catanzaro e di Foggia e dal servizio centrale operativo, è emerso il fondamentale ruolo dei basisti locali, collegati con elementi della banda di rapinatori di Cerignola, che aveva già colpito diverse volte nel Foggiano e in altre zone della Puglia. Gli investigatori avevano subito notato le analogie di metodo tra la rapina, la sicurtransport e quelle avvenute nelle province pugliesi. Determinanti le dichiarazioni della donna, diventata collaboratrice di giustizia, che ha parlato del ruolo di assoluto rilievo avuto dal suo ex compagno Giovanni Passalacqua nella preparazione e nella commissione del colpo ed ha fornito elementi, poi riscontrati, su fatti e circostanze della fase organizzativa. E che ha indicato nel responsabile della sicurezza del cavo dell'istituto di vigilanza il personaggio chiave dell'intera vicenda. Sarebbe stato lui a fornire informazioni dettagliate ai rapinatori per risparmiare secondi preziosi nel ristrettissimo tempo a disposizione per portare a termine il colpo e ad indicare loro il punto debole della struttura, quello nel quale la ruspa è poi entrata in azione. Passalacqua è considerato un personaggio di spicco dell'andrina di etnia Rom di Catanzaro. Fu lui, come conferma l'analisi dei tabulati telefonici, a recarsi più volte a Cerignola ed era sempre lui ad avere contatti con l'imprenditore del settore del Movimento Terra di Rossano al quale furono rubati l'escavatore ed il rimorchio usati dai banditi. Un furto che, insolitamente, venne denunciato solo dopo circa un mese. La scelta della notte dell'assalto non fu casuale. Si erano infatti appena chiuse le urne del referendum istituzionale e centinaia di uomini delle forze dell'ordine erano impegnati a garantire la sicurezza ai seggi. Si trattò di una vera e propria operazione con metodi paramilitari. Una quindicina di persone a volto coperto ed armate di mitra assaltarono la sede dell'Istituto di Vigilanza, un capannone nella zona industriale di San Floro, pochissimi chilometri a sud di Catanzaro. L'azione durò in tutto una ventina di minuti e per sfondare il muro del capannone venne usata una ruspa con un martello demolitore. Il piano era stato studiato nei minimi dettagli. I banditi conoscevano le vie di fuga ed avevano anche isolato i collegamenti telefonici della zona, utilizzando un dispositivo per disturbare le frequenze radio delle forze dell'ordine. Quando queste ultime riuscirono ad arrivare, trovarono uno scenario da zona di guerra. Chiodi disseminati sull'asfalto e ben 11 auto bruciate lungo le strade d'accesso. Malgrado tutto, l'intervento della polizia costrinse i malviventi a scappare prima di finire il lavoro, portando via solo un sesto del bottino potenziale. Nel cavo rimasero infatti circa 40 milioni di euro. Durante la fuga i rapinatori spararono anche contro una pattuglia di poliziotti che stava accorrendo dopo le chiamate dei residenti al 113. Per quel che riguarda le responsabilità, i pugliesi sono stati il braccio esecutivo ed i calabresi la mente, occupandosi di assumere le informazioni necessarie, rubando le auto poi utilizzate per i blocchi stradali ed il cingolato col quale è stato demolito il muro e nascondendo i componenti del commando arrivati dalla Puglia, ospitati per qualche tempo e nascosti in attesa che si calmassero le acque prima di far ritorno ai loro luoghi di residenza. Perquisendo uno dei cerignolani è stata trovata una pistola che era stata sottratta ad una guardia giurata nel corso di un'altra rapina. Poi una parte del bottino con le banconote che riportavano il contrassegno della Sicur Transport era stata trovata nascosta nella casa di un altro elemento della banda. È stata la svolta definitiva prima dell'operazione di oggi. I magistrati della Procura Antimafia di Catanzaro hanno parlato con i giornalisti, hanno parlato di indagine che ha delineato come la trama di un film il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Il procuratore aggiunto Vincenzo Luberto ha invece sottolineato come ci sia stato un perfetto concerto tra l'endrine del crotonese e del catanzarese che hanno assentito, dato il via libera a questa operazione che poi è stata anche altamente spettacolare sul territorio per trarne certamente anche profitto e ha sottolineato come l'andrina di etnia rom che è stanziale a Catanzaro abbia non solo dignità nel mosaico complessivo della drangheta calabrese e catanzarese in modo particolare ma sia perfettamente integrata ed autonoma rispetto ad alcune dinamiche criminali. Sembra la trama di un film e noi siamo riusciti a trovare alla fine, prima della parola fine la soluzione di questo giallo, di questa trama. È stato possibile per aver lavorato con una polizia giudiziaria di qualità e in questo caso abbiamo interessato lo SCO che è il servizio centrale operativo che coordena tutte le squadre mobile d'Italia. In questo caso è stata importante, preziosa l'intervento della squadra mobile di Foggia perché loro lì sono esperti dato che su quel territorio ci sono delle organizzazioni specializzate nel fare questo tipo di assalti militari sia di cavò sia di portavalori bloccando addirittura autostrade sia sull'Adriatica che in altre parti d'Italia. Il Passalacqua che è uno dei promotori e basisti e organizzatori di questo assalto voleva uccidere la moglie perché l'accusava di aver rubato una parte di questo bottino circa 120 mila euro degli 8 milioni errotti e quindi lei si è impaurita e è corsa dalla polizia e ha incominciato a parlare. È stata sempre con due cuori perché non voleva denunciare il marito ma allo stesso tempo aveva paura di essere uccisa. Penso che il risultato di questa indagine voglio essere un po' presuntuoso, possa scoraggiare altri eventi del genere, possa scoraggiare la criminalità organizzata calabrese a pensare di organizzare questo tipo di assalti perché c'è un valore aggiunto ora in procura a Catanzaro, la grande determinazione, il non voler mollare l'osso e c'è una grande carica, un grande entusiasmo nelle forze dell'ordine. Questo è un valore aggiunto che consente di riuscire ad ottenere questi risultati. Abbiamo elementi forti per dire che il Cutresi, Mesorachesi, Petilini e i Solitani hanno concesso, hanno autorizzato questa rapina contribuito alla logistica. Quello che impressiona è quanto i rom siano ormai aggregati alle cosche, siano fra loro coesi, in quanto le auto per esempio sono state rubate a Cosenza, l'ariete utilizzato per sfondare il cavo rubato a Rossano. Veramente impressiona questa denuncia di un mezzo così importante anche dal punto di vista fisico che viaggia con trasporti eccezionali e che quindi impiega un tempo non breve per raggiungere Catanzaro da Rossano. Veramente impressiona questa denuncia così tardiva che fin da subito ha lasciato intendere di una complicità di questi imprenditori. Antonio Rispoli, 65 anni e il figlio Giuseppe Cosimo di 24 sono stati arrestati dai carabinieri. Il primo con l'accusa di estorsione, entrambi per furto. Arresti che sono stati fatti in seguito a due tentativi di estorsione da parte di Antonio Rispoli nei confronti di un imprenditore, chiamando da una cabina pubblica, aveva chiesto al datore di lavoro da prima 500 mila euro e poi 200 mila euro minacciandolo di incendiargli le proprietà. Padre e figlio a distanza di un anno si sono resi responsabili del furto di mezzi agricoli del valore di 200 mila euro nell'azienda di Guardavalle di proprietà del figlio dell'imprenditore preso di mira in precedenza. La direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 22 milioni di euro a Girolamo Giovinazzo, 45 anni, di Cittanova, ritenuto elemento della cosca raso-gullace albanese proprio di Cittanova. I beni sequestrati sono otto società che hanno sede tra Cittanova, Roma e Pomezia, che operano in diversi settori, turistico alberghiero, edire agricolo, della lavorazione del legname, del trasporto e dei rifiuti. Poi 16 terreni, due capannoni ad uso industriale, conti correnti e titoli comunitari. Il sequestro fa seguito all'operazione Alchemia del luglio del 2016 in cui Giovinazzo risultò coinvolto insieme ad altre 40 persone. Giovinazzo è stato rinviato a giudizio nel luglio del 2017. Secondo l'accusa il suo ruolo era quello di portavoce uomo di fiducia di Girolamo Raso. La Guardia di Finanza ha regalato oltre 4 mila capi di abbigliamento che ha sequestrato in varie operazioni contro la contraffazione alla Croce Rossa italiana su disposizione anche del Tribunale di Crotone. Questo perché poi la Croce Rossa riconsegna persone bisognose. Gli indumenti sono frutto, ripeto, di attività contro il commercio illegale di prodotti griffati. Saranno quasi 8 milioni per un giro d'affari di 2 miliardi e 850 milioni di euro gli italiani che si muoveranno per la festa della liberazione. Poco meno, 7 milioni e mezzo, quelli invece che si sposteranno per il ponte del primo maggio. La maggior parte di essi resterà in Italia, il dato è di federalberghi. L'87% dei viaggiatori resterà in Italia, erano stati quasi il 92% l'anno scorso, quindi si viaggia di più all'estero, maggiore disponibilità si può pensare, mentre il 12,5% sceglierà all'estero. Le mette preferite ancora una volta il mare, il 36,6%, a seguire le città d'arte e la montagna. Vigilia, antivigilia, anzi della delicatissima sfida di Udine per il Crotone che con il pareggio contro la Juventus ha lasciato pressoché invariate le distanze rispetto alle più immediate squadre che gli stanno davanti, a partire dalla Spal che è la sua prova quarta ultima, la sua provanza di un punto e che sarà impegnato appunto al Friuli di Udine. Squadra in ritiro da ieri su richiesta dei calciatori, ritiro che ha portato bene e che evidentemente è servito a trovare la concentrazione prima della gara contro la Juventus e che i calciatori hanno chiesto di rinnovare al tecnico Walter Zenga. Posto che per Budimir e Benali non ci sono possibilità, l'unico che può essere recuperato è Nalini che, vi ricordo, è reduce da una distrazione al flessore che andrà monitorato, è andato in panchina pur se si sapeva che non avrebbe potuto essere impiegato nella gara di mercoledì sera contro i campioni d'Italia. Nell'Udinese Berami, l'albanese Berami, è recuperato ancora a parte invece ieri Lasagna e per il Crotone, diciamo, certo questa non è una cattiva notizia, stiamo parlando di un giocatore molto forte dal punto di vista tecnico e vi ricordo che l'arbitro dell'incontro sarà il Brindisino Di Bello, si gioca domenica alle ore 15 allo stadio Friuli. Per questa edizione del telegiornale è tutto, la prossima andrà in onda alle 19.10. Grazie per la visione!